Sono giorni che si parla della difficoltà di partorire all'ospedale Iazzorino di Vibo Valencia, dopo la lettera inviata anche alla stampa del personale in forza al reparto di genercologia, seguita da una denuncia cautelativa al fine di declinare ogni responsabilità civile, penale e amministrativa. Prontamente avevamo chiesto l'Ulmi al direttore generale dell'Asp, ma ora la vicenda ha avuto un ulteriore sviluppo, con la convocazione da parte del prefetto Guido Longo di un tavolo al quale sono stati invitati il comune, il commissario per il piano di rientro Massimo Scura, che per la verità non si è presentato, il delegato per la sanità della regione Calabria Franco Pacenza, i vertici dell'Asp, nonché i sindacati e i parlamentari Censore e Dali Lanesci, dalla cui richiesta era partita l'idea della convocazione di questo tavolo e che invece quasi un'ora dopo l'inizio della riunione non si era ancora fatta vedere, delegando il suo medico di fiducia e i consiglieri regionali. Ho portato una serie di relazioni a dimostrazione che le cose non sono proprio così come sono state denunciate. Parte dei problemi sembrano derivare dalla mancanza di un primario. Si è fatto il solteggio. Finalmente arriverà? Allora, guardi, il primario deve arrivare a tutti i costi e noi ce la stiamo mettendo tutta, però voglio precisare una cosa, è il terzo sorteggio che facciamo. Quindi io mi auguro che gli ultimi sorteggiati diano la loro disponibilità, altrimenti oggi dirò che vedremo cosa dobbiamo fare affinché componiamo la commissione per il concorso primario.